Buona a tutti ragazzi, buon belanese fuoco! Qua siamo tornati in questo messo inizio Uovo di Pasqua! Un altro uovo di Pasqua Che ho avuto il primo video da trovare Perché è fighissimo E adesso si monta mia nonna Aprevo questo uovo di Dragon Ball C'era pure il disegniero ma non lo ho già tolto Ora l'elastico Adesso andiamo dalla presenza Oh mio Dio Altro di quello a casa Penso che mi hanno regalato i nomi E io Ho una carta che me la tengo ovviamente Che ho visto l'altro video E' della Juventus Poi adesso Qua c'è l'uovo Andremo ad aprirlo Che non è a casa mia mamma Ecco l'ho pronto Aspetta che Stanzano su quanto c'è Ma guarda qui Aspetta che mettiamo qui nella carta Ecco Adesso lo spaccheremo ragazzi Lo spaccheremo così Guardate Guardate l'altro Io però non vediamo Dona Dona Una massa che faceva da tutti E' smenaggiamo Smanaggiamo 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 Andiamo a L'altro La presa sopra Va Smanaggiamo 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 potrebbero così ma non voglio allora così allora ah sopra fa schifo allora qua guarda si fanno le crepe ma non si è rotto parco guarda si è rotto questo pezzo ma aia madonna no prende mi fa una cacata però prende le forbici i forbici i forbici i forbici i forbici ma che hai detto? che fai la forbici? dovresti essere un noci non fai male ok mi faccio mettere gli ospedali ok 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 vediamo vediamo guardate anche se faccio così guarda 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 si è fatto le crepe però le faccio così però non si rompe cioè posso fare così ovviamente guarda e lui si rompe le faccio così guarda 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 queste forbici ora non vanno guarda ma non è peggio guarda Impossibile Una caccatina, un puzzlino Ma che scherzo Un puzzle di cacca Un puzzle Che scherzo Potrebbe capire un altro altro Ma cosa? Un puzzle Un puzzle che si perde Un puzzle del cavolo E di colori delle mattite E di colori delle mattite E di colori delle mattite Un puzzle 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 di colori ah i colori o i puzzle i puzzle ma i colori che è stata va a vedere come ah io i colori e i puzzle metti a colorare bella forbes è ovviamente questa qua me la tengo andiamo amore lo vuoi il cremino? quello è tutto l'altro qua e che giocchi non entri? no la trolla dentro la ciubattina la trolla la trolla la trolla trolla la trolla trolla ahhh